ecco che abbiamo qua thomas brenner l'ideatore di be the monster allora benvenuto qui c'è un libro che riconta delle storie è simpatico video viene in tanti form adesso abbiamo fatto un libro che si conta della storia del lago e dei bambini in sala hello welcome to the mountains of north of italy not that far from lake garda where we have the nessi a cousin of nessi actually he's called benny and benny is a legend that's existed for over 500 years we have books in english german danish and italian visit the website be the monster dot com is i a a a a a a a a a Grazie a tutti